Ehi ragazzi, ciao da Nick e bentornati qua su The Sims 4 Allora ragazzi, stavo per avviare appunto la partita quando mi salta fuori questa diciamo finestra che più o meno sta a dirmi che ci sta una tipa che si chiama Yasmin Holiday che può aiutare i miei sims a salire più in fretta in abilità e carriera per questa settimana quindi è interessante, mi sta a dire che appunto che questa qui rimane per poco tempo diciamo in città e quindi mi suggerisce di trovarla e parlare con lei per approfittare della sua straordinaria generosità Che amica! Ok, quindi teniamo quindi d'occhio questa situazione Yasmin Holiday Ok ragazzi, eccoci qua Vediamo un po' la situazione Ovviamente il giocchiattolo qui fuori non serve più a niente Venduto Poi Mi avete detto che Nicky ha bisogno di un nuovo taglio di capelli Vabbè, mi piacciono lunghi dai Il colore li teniamo così perché comunque diciamo con la carnagione ci sta abbastanza bene Li teniamo scuri Poi mi avete anche detto che dovrei sistemare Nicky Eh, il problema è che è grasso Questo è il problema Mmm Beh Ci sta, eh Ok, questo è Se lo mette sempre in casa Se magari Eh Qua c'è la ardua scelta Cavolo Vediamo un po' questo com'è Ah Eh Sì, solo che ti devi mettere a dieta Mannaggia Ma che chiacchio Mo te metto sotto, ah Ora qua si corre A te ne vai con Nicky In palestra Così lui magari trova Si trova una ragazza E te Metti giù qualche chilo Direttamente in palestra però Oh Mannaggia che pancia Che Potrei anche farlo dimagrire? No, ma non è giusto E poi non penso che dimagrisce più di tanto Devo comunque portarlo in palestra Mi sa Da notte Da festa Ecco Ma no Questo è quello che bisogna cambiare in assoluto Che cavolo è sta roba? Oh, già Guarda Però magari vedo se c'è qualcos'altro Ok, va Tengo questo Da bagno Va bene questo Avanti Da una mezza sistemata Mo c'è chi deve andare al lavoro C'è chi deve andare qua C'è chi deve andare da là Io direi che invece Nicky non va a lavorare Se si può più a una giornata libera E Nicky non va a scuola Perché si va in palestra Mi avete anche detto Che potrei Ok Mi avete detto ragazzi Che potrei anche Relazionare Nicky non con Irene Irene Com'è che si chiamava? Galli Non mi ricordo Comunque La tipa quella Che cucina Insomma Tipa mia figlia Vabbè D'altronde Quando si sposa Deve pur cucinare Suo marito Quindi Lasciamola imparare Va bene Quindi la situazione Capiamoci Lei è andata a letto Va bene Va Dove va lei Al lavoro Nicky Ma guarda Nicky ora Oh Ah che bello Con gli occhiali da sole Di 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 notte Oh finalmente Mi è venuto Da di Allora Chiama al lavoro Che non si va Al lavoro Uh Chiama Ecco Me ne stavo dimenticando Chiama Yasmin A quest'ora Oh Uh Cacchio le bollette Paga va Meno male Che ho venduto Il giocattolo La Oh stanno arrivando Tutti Che Tutti con babbo E babbo Se ne va E figlio mio Come ti voglio bene Babbo Proprio Mi dice babbo Mi dice Ma a me Mi dice babbo A me babbo Non me lo deve dire Allora Prenditi un giorno Di vacanza Avanti va Chiama va Ah Oggi non venga al lavoro Va Che devo buttare Qualche chilo Va bene Figlio mio A dove vai Uh Anche te Danna a scuola Non ci vai No a scuola Ma perché stavo andando da sua madre Eh ma non vengo perché devo farlo chef Una bella scusa Ok Lei deve andare a scuola Però mi sa Lei si Ha studiato Va bene Ma che problema C'ha Senza sfide Ah cavolo Oh È vero Io ho detto che è un genio Però Alla fine Il genio Che deve fare Siccome Nick Non è tanto genio Non sa Il genio Che deve fare È una cosa Molto ingegnosa Ah il genio Il genio Il genio Mmm Non lo so Oh se ti piace tanto essere un genio Vai a passare un po' di tempo A Ah già ti ho messo il tratto di scrittice Mi pare No Quindi va a scrivere Va cominci a imparare qualcosa Va Mi pare che ci sta D'altronde mi pare Gli avevo dato il tratto Di Famosissima scrittice Roba simile E infatti Eccolo qua Ecco Autrice di best seller Oh E ha anche bisogno Di essere ispirata Ah Aspetta Come faccio a farla ispirare A questa mo Ispirata Fiduciosa Oh po' Bravo Ho fatto i selfie Aspetta Per l'ispirazione Mi pare che bastava Una doccia No Doccia Riflessiva Eccolo qua Riflessiva Vai Giusto Scrivi per un'ora Con lo stato ispirato Avanti Buono Poi Ehm Vedendo lei però Devo andare a scuola Vabbè Vabbè Lasciamola andare a scuola Poi No Lasciamo che scrive il libro Oh Allora figlio e babbo Sono a letto Va bene Va l'indomani Quindi si va in palestra Così lui Mi avete detto insomma Che per lui sta bene Irene Che è una cuoca Quindi magari Per questo futuro Ristorante E mia figlia che si lava Nel piano di sopra Guarda Oh Ispirata Adesso Puoi scrivere In modo No Scrivi Ah ok Scrivi un libro Per bambini Mentre sei ispirata Date una mossa Boom E qui ci sta L'obiettivo Scrivi due libri E scrivi Da ispirata Ehi Oh Abilità di scrittura Tra poco Mi dovrebbe dare Almeno il primo obiettivo Ah Le aspirazioni Devo anche guardare Le aspirazioni Di Nicchino Effettivamente Beh Eccolo là Perfetto Eh però si fa tardi Deve anche andare a scuola Deve andare a scuola Lei Tra cinque ore Deve anche andare in magno Che sta che c'è andata in mosche? Vabbè va Piegati un giorno di ferie pure te Dai Non c'è andare Va Ah quasi quasi Vieni con noi in palestra Va ci passiamo tutti una giornata in palestra Quasi quasi Portiamo anche a mamma Sì però basta scrivere Prenditi un giorno di vacanza da scuola Ok Devi andare in bagno E poi il libro lo finiamo un'altra volta Perché ovviamente dobbiamo andare in palestra tutti insieme Non è che ci posso andare così Un prima uno poi un altro A meno lei si tiene un po' in forma Perché comunque in forma si deve tenere Quindi la palestra fa bene anche a chi è già in forma Fatto? Certo che sto letto qui da Rockstar Per una che è un genio Vabbè No nebulizza il mostro sotto il letto Ancora questo problema Non mi dire eh Ci manca che da semi adulta Mi vieni a cercare il mostro Oh yeah Allora tra poco però Lei deve andare al lavoro Vabbè ma questi quasi mandiamo lei a lavorare E i f... E i nicchi con i figli Vabbè ma lei pure ha bisogno di palestra È molto ingrassata ultimamente Alzati un po' Vai in bagno Poi c'è la questione divertimento e fame Gli scappa a tutti? Ma che? Oh Epidemia Ma non c'è l'epidemia Ok E uno va sopra E uno va sotto Non ci sto a capire più niente No non pensare a cucinare se ti scappa Fai una cosa Chiama al lavoro Che oggi andiamo tutti Oggi si va tutti fuori Ah mi fa male la pancia Ho bisogno di un dottore Oggi non vengo Vabbè nicchi Insomma la situazione è quella che è Io ho un'idea Prepara da cucinare per tutti Ci dovrebbe essere quel cibo mega buono Che ho imparato Dov'è? BUUU E chi si ricorda Le cose buone Qualsiasi erba Gnocchi alle noci Vabbè Avanti vabbè nicchi Pensaci te Che tu sei il miglior cuoco qua Te Vai in bagno Che si è liberato Che cos'è che succede? Sento strani rumori Fermo Non ti zottò Non ti zottò Tocca quel diamine di frigo Mannaghi a te E che cucina fa babbo Per niente Yogurt Buttalo via Dai che papà sta cucinando Se ne frega Buttalo Tanto mi pare che lo yogurt Non costa niente Quindi Ancora quello sta preparando L'impasto Che roba Va bene Dov'è il figlio? Dov'è che lo va a buttare? Scusa Ah c'è un piatto lasciato in giro Nicchina meno male che a lei dorme ancora Prima che poi gli viene fame Forza Nicchia va Prepariamo da mangiare per tutti Che poi si va in palestra Andiamo poi a buttar via Tutto quello che abbiamo mangiato Raggiunto il livello 4 di alta cucina A posto Nicchia Continua così Nicchia Chiama a tavola E' importante Perché sennò questi Non vengono Oh la bagna Andiamo La forza è pronta Andiamo È pronto A guardare la tv Beh perché no Che cos'era? Va a fare un po' di zapping Va Vabbè va Si prende la tv Si mangia tutto a tavola E' la figlia che fine ha fatto Ah lei dorme Vero Andi alza dai Piedi sta porzione di cibo Così anche te avrai qualcosa da bruciare In palestra Siete di qua Siete di qua Siete di qua Forza tutti in famiglia Oh ma sto coso A me buttato qua Mi dà fastidio Non lo posso vedere Ok Dai Vieni a sederti Con la famiglia Col cavolo La rimane lei Mi sa che viene all'ultimo Quando ha finito di mangiare A posto? Oh mazza Mazza che faccia E che sti 100 euro? Ah stavo a dire Mi sono partiti di 100 euro Senza motivo Vabbè va Fallo va Vabbè allora Visto che tu sta a far libro Nicchina Continua quel libro Mamma Ah già ma qua Devo comprare un altro computer Mi sa Ho un'idea Non è brutta Di un altro computer Così Perché qua Qua uno Qua uno Non c'è Basta più Qui con un computer Non basta più Ogni tanto Do cacchio Ah uno Diciamo Diciamo Amo Amo Niente Cos'è questa roba? Vabbè Via questo E' quello più Più economico Oh yeah Vediamo se puoi riprendere A scrivere Bene Allora anche te Mettete a scrivere il libro Va Avanti va Più o meno Più libri pubblichiamo Più soldi facciamo Ok Nick ha finito Vendi Mi pare che non dava niente No vabbè Ok va Oh Appena finisce Nickina con sto libro Andiamo in palestra Va Dai va Oh Lezione sim sicuri Oh Ce l'ha fatta Nickina Perfetto Pubblica Primo libro pubblicato Di Nickina Allora Cominciamo subito Con chi ha bisogno Di perdere Chili Quindi Due piccioncini Corri E basta Corri Te Corsa Sfida Corsa Oh ma che cacchio Cor Resistenza Vai Lui che sta a fa Guarda un film Ma come guarda un film Do sta Nick Deve fa palestra Deve fare muscoli Mettiti qua Nickino Vai Nickino Te Lei ha bisogno Di tenersi in forma Avanti vai Vai Nickino Guarda questa di televisione Va Così consumiamo un mucchio di corrente Va Ah vabbè va Vabbè Allora Nickino Fai zapping Fai zapping Te Guarda Dov'è Guarda la tv Va vabbè Comunque Forza Dateci sotto Raggiunto il livello 2 Di forma fisica Per Nickina Bene Andiamo avanti Così Vai Oh mio dio Mio figlio Guarda mio figlio Dai Continua così Pompas di muscoli Ti sei già reso? Oh che vuole questo? No cola va Non c'è rompere No cola Oh aspirazione di Nickino Allenati in palestra Allenati per un totale di 8 ore Va tranquillo che c'è la famo Chi è questa? Ariana Giada Mana Non mi piacciono per mio figlio Guarda sto poveraccio Povorello come suda Guarda mia figlia invece Suda Ma va alla grande Guarda mia moglie Pare incinta Butta qualche chilo Oh Nick Dov'è? Oh no bello Continua Che la pancia ancora là Ok Allora Nickina Direi che comunque Puzzi Che succede? E' successo qualcosa? Tutti che puzzano Nickina Meglio che te ne approfitti Prima che qua Fatti una doccia Anche te A disagio perché Puzzi Fai una doccia Ah lui è Nickino qua Mica l'avevo visto Ma dove è che sei stato? Ma dove è stato? In mezzo al fango? Che problemi c'ha? Oh mio dio Oh mio dio Conversazione irritante Aia Ehi Signorina Ma perché non se ne va questa qua? Accidente Mia moglie è arrabbiatissima Fai una doccia fredda Dai che ti calmi Va Sei proprio schifata Oh mio dio Oh mio dio C'ho la moglie Incavolata Proprio come una bestia Disumana Allora Nickina E' nata a posto Va Va Fatti un po' di muscoli No Ah ok Nickina non ne può più Basta Nickina è stanca Nickina continua ad allenarti Nick è tranquillo Guardalo Lui puzzo Ma non gliene frega niente Babbo va Nick è Nickina Babbo Continuiamo con gli allenamenti Dai Insieme a Babbo Dai Che fosse che Babbo Ha bisogno di socializzare un po' Fai due chiacchiere col figlio Spiega cos'è il figlio Vabbè Ci manca pure questa Chiedi dell'autore preferito Ma quello che vogliene frega Forza ragazzi Continuate Continuate Chi è questa allenatrice Guarda Nickino però Che comunque a lui non gli dispiace più di tanto Forse Chi lo sa Forza Oh però sta tipa puzza Che è una cosa incredibile Vattene via Che le tue ascelle Stanno impestando l'aria E che se è un'alarma nucleare di massa Vattene via Mamma mia Mamma mia Ma cos'è il gas nervino Vai via Vai via Vai via Ah finalmente l'hai capito Un po' tardi ma l'ha capito Nickino Continua Continua Perfetto Livello 3 Ok Si torna a casa Abbiamo abbiamo sudato abbastanza Abbiamo lavorato abbastanza in palestra Siamo abbastanza soddisfatti Bang Ok ragazzi Il gameplay si conclude qui Quindi come vi avevo detto Appunto Avevo deciso anche nello scorso gameplay Di fare qualche attività Con Nickino Principalmente Ma alla fine Visto che un po' tutti hanno bisogno di palestra Li ho portati tutti in palestra Non ho visto nessuna di interessante Per Nickino in palestra Nessuna che piace più che altro a me E quindi vabbè Comunque Vedremo tra Irene Quella tipa la che avevo visto E mo' non si ritrova più Vabbè Uh mi son dimenticato Vedi alla fine mi son dimenticato Di quella tipa La Quella lì Yasmin Completamente Vabbè tanto Non abbiamo lavorato oggi Quindi Vabbè così Magari nel prossimo gameplay Se ancora stati per in giro La contattiamo Ok ragazzi Quindi vi saluto